Tommaso Ceccarelli, uno degli attaccanti della Virtus Lanciano, in attesa della prima vittoria e dei primi gol che arrivino dall'attacco. Sì, siamo in attesa soprattutto della prima vittoria, che è dei primi gol. Siamo di vincere subito, di portare a casa subito questi tre punti. Così dobbiamo pensare a vincere, perché se ci vogliamo salvare la strada è lunga. E i gol arriveranno, si spera arriveranno presto. Siete tutti nuovi come attaccanti qui alla Virtus. I vostri propositi? I nostri propositi sono innanzitutto di cercare di fare più gol possibili, per portare più vittorie possibili e per cercare di stare tranquilli fin da subito. E poi ovviamente personalmente spero di fare più gol possibili e di andare bene. E la prima stagione alla Virtus, in questo ambiente come si è trovato? No, no, mi trovo molto bene. Il gruppo è ottimo. Io ho già detto che devo trovare la forma migliore, perché non gioco da un po' di tempo. Sono tornato due giorni fa dalla nazionale. E niente, mi sto sentendo sempre ogni giorno meglio, quindi sto tranquillo e sto di poter far bene.